Chitarre al castello dei Conti di Modica di Alcamo, nelle giornate di venerdì e sabato scorsi. Ieri sera, concerto dell'Associazione Musici della Concordia, che hanno riscosso successo per la qualità della loro esibizione. Si tratta di un gruppo musicale di Padova, composto da giovani studenti con la passione per la musica. Entrato nel vivo, il programma dell'estate alcamese, caratterizzato da varie manifestazioni, sia in città che ad Alcamo Marina. Ne abbiamo parlato con la responsabile della Prologo, Giuse Amato, e con il socio, Vito Crimi. Per noi è un piacere riprendere da ciò che si può fare, però ci rendiamo conto che veniamo a contatto con mille difficoltà. Prima di tutte, il dovere nei confronti del rispetto delle leggi e quindi tutta questa normativa anti-covid legata alla pronotazione all'evento. Gli eventi sono tutti gratuiti, l'abbiamo detto in mille modi. La pronotazione serve per avere la tracciabilità delle persone che possono assistere fino al raggiungimento dei posti messi a disposizione. Questo è necessario perché bisogna essere registrati. Dal 6 poi sarà necessario esibire il Green Pass con annesso documento di riconoscimento perché altrimenti non si potrà assistere neanche agli eventi all'aperto. Per quanto ci possa dispiacere, perché magari non è così immediato l'accesso, oppure essendo semplicissima la registrazione, noi abbiamo messo anche a disposizione lì all'ufficio turistico, le ragazze del servizio civile, ci si può recare all'ufficio turistico dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 e 30 alle 19 e 30 per potersi registrare. Le ragazze lo fanno per voi. Questo fine settimana, il venerdì e il sabato, ci sono stati degli egregi chitarristi, musicisti del Conservatorio di Trapani. Stasera qui ci saranno un'orchestra veneta, quindi per l'idea proprio di essere un po' coinvolti anche a livello nazionale. Sono ragazzi molto giovani, molto bravi, molto preparati. Quindi ci saranno altri eventi musicali con i 40 che ballano i 90, ci saranno altri concerti di musica classica, ci saranno le commedie con il Piccolo Teatro e la compagnia di Angela Bambina, ci sarà Stefano Piazza che è un comico. Insomma, abbiamo cercato di accontare un po' tutti gli eventi per bambini con la frappe animazione e con Musique che si occuperà dei laboratori. Abbiamo cercato un po' di provare ad accontentare tutti, sperando di riuscire a essere all'altezza di ciò che ci si chiede e di poterli fare tutti. Io in questo contesto volevo un po' allargare un po' il discorso e parlare un po' di quella che è il supporto della campagna vaccinale, no? Perché in questo modo possiamo renderci effettivamente conto di poter ripartire con le dovute accortezze per Benino, come da gente per bene, ecco, quali gli italiani sono. Il mio ruolo è un supporto per quanto riguarda la Proloco. E quindi diciamo che faccio anche per quanto riguarda il kite. Siamo per il 22 agosto, vogliamo fare questo evento, il primo evento ad Alcamo Marina che verrà fatto al Canalotto. E quindi diciamo che iniziamo con questo e poi si verrà. Grazie. Grazie.